Preversive che cercano di colpire sono libertà di lavoratori, sono libertà di giovani e basta... Com'è di Roma? I partiti non sono pratici di lavoro professionale! Lavoratori, studenti, le Brigate Rosse hanno assassinato qui, nell'Università, i miei due studenti e i docenti hanno fatto una nuova vittima. Il Vice Presidente, cioè quello che sostituisce il Capo dello Stato, per chi è il Presidente, del Consiglio Superiore, la nostra solidarietà è la famiglia, sapendo che non ci sono parole capaci di consolazione. Conteniamo la solidarietà, che si concretizzerebbe... Grazie! 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 Buongiorno! Grazie! allora bacca sul zampavo che giornalista scusi non è bene non sta passando scusate, ma non ne puoi entrare non dovete entrare se te li vedo la mano non la puoi fare non la puoi fare non la puoi fare Dice il vicepresidente della Camera che fa l'entrata, non si che non può trovare. Dice il vicepresidente della Camera che non può fare stare fuori. Capitano, fate entrare, per cortesia, fate un po' di parte. Andiamo fuori, andiamo fuori, per favore. Tutti fuori, tutti fuori, scelta fuori, scelta fuori, scelta fuori, scelta fuori, scelta fuori. Non si che trovi, non scelta fuori, scelta fuori, scelta fuori, scelta fuori, scelta fuori. Ucrisate dai, scelta fuori. E' che tutto spiro. E' che tutto spiro? Dopo che un po' di più, ma stia fuori. E ci stava fuori. Tieni meglio, che l'ho? E' stato del positivo, che è stato dal blocu. E' stato del suo futuro. mio signo di rotta Bertiglia L'ho da tenere questa cosa Tanti come avviato dalla Camera Non lo bevo io Non lo bevo io Non lo bevo io Non lo bevo io Grazie a tutti. 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 Io credo che domani mattina si terrà questa manifestazione di cui ha parlato qualcuno prima di me, qui all'Università di Roma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.